Noi siamo qua a Velturno, nel Val di Sarco. Noi abbiamo un maso molto classico per la nostra zona, vuol dire un maso con una produzione mista. La storia del nostro maso è una storia molto lunga. Come struttura il maso è del 1300, abbiamo già 700 anni e la nostra famiglia, la famiglia Plaspichler, vive qua sul maso Rador da fine 1800. Il nome Rador è un nome retromanico e quel radar significa una cosa rotonda e per quello abbiamo anche sul nostro logo la ruota. La nostra filosofia è una filosofia biologica, una filosofia naturale, perché noi non vogliamo lavorare contro la natura, ma con la natura. Abbiamo iniziato già vent'anni fa con quel lavoro e funziona molto bene. Per me tutti i cinque vini sono buoni. Io non ho un vino migliore perché ogni giorno il mio gusto è un po' diverso, ma il nostro vino più importante è il Loac. Questo è un vino rosso e un cuvée da Pinot Nero con 80% e 20% di Zweigert. Grazie a tutti. Grazie a tutti.